Mister, domenica una partita importante qua contro il Real Aversa, sarà una partita importante, le chiedo che partita si aspetta, come si sta allenando la squadra, soprattutto dopo la bellissima prestazione di Casoria? Sicuramente come tutte le gare di questo girone, già l'abbiamo rimarcato varie volte, sicuramente domenica sarà un'altra partita difficile ed è quello che soprattutto stiamo cercando di far passare ai ragazzi già da martedì, il fatto che comunque ci siamo detti già da qualche settimana, il fatto di migliorare quella mentalità, quella mentalità che ci deve portare ad essere sempre attenti e sul pezzo già dall'inizio settimana della partita, qualsiasi sia l'avversario che si vada ad affrontare e questo è lo step che oltre alle questioni tecnico-tattiche che secondo me poi vengono in secondo piano è importante fare questo step in avanti, cioè mostrarsi sempre applicati al mille per mille dal primo giorno a prescindere dal nome della squadra con cui si va a giocare la domenica successiva. Noi dall'anno scorso diciamo che ci siamo come società, come Forio nel senso stretto del termine, ci siamo scontrati l'anno scorso varie volte, qualche volta di più su questo aspetto, nel senso che venivamo da delle prestazioni convincente, da dei risultati, poi probabilmente abbassavamo il ritmo della settimana, della testa e poi la domenica accadeva quello che non volevamo. Quindi questa è la cosa principale che mi preme che i ragazzi facciano, che vadano in campo, mettano in campo quella grande prestazione diciamo di idee che hanno messo domenica scorsa e soprattutto poi questa prestazione di idee sia associata con una grande prestazione mentale. Noi, come hai detto tu, quella gara con la Fragolesi un po' falsata come uomini, perché poi è inevitabile che l'attacco, poi l'attaccante centrale spesso doveva rimanere solo, purtroppo in mezzo alle maglie dei difensori avversari. Però quello che noi stavamo provando a fare già da inizio ritiro e con più enfasi, diciamo così, era proprio questo, il fatto di avere un coraggio maggiore, quello di alzare un pochino il baricentro di 10 metri con tutta la squadra, avere il coraggio di prendersi dei duelli uno contro uno in tutto il campo. Domenica l'abbiamo fatto bene, con grande consapevolezza, perché quello che io percepivo in campo era proprio il fatto che ognuno di loro andasse forte sul proprio uomo, senza timore reverenziale, senza rallentare quei metri che gli permettevano poi all'avversario di farti male. Quindi questo è in associazione alla domanda precedente, cioè alla parte mentale di essere applicati al 100%, anzi al 101% in ogni gara, in ogni momento della gara e con chiunque esso sia, questo è quello che ci deve dare una mano. Poi quella cosa dell'attacco è anche poi a, va ad essere aiutato con tutto quello che tutti gli amici, i compagni che ci sono dietro alle spalle degli altri reparti, quindi è un concatenarsi dei cosi, ognuno di loro devono avere questo atteggiamento in modo che in avanti, man mano che si va in avanti, si sommano e diventa una coralità. Cambia tutto, a volte cambia anche il negativo, quindi diciamo che la forza mentale di Domenica è stata questa, che anche avendo fatto gol subito siamo stati bravi ad essere ancora continuativi del concetto di prima, del concetto di coraggio, perché altrimenti poi facendolo dopo un o due minuti, gol, rischi ovviamente di perderla ribartando. E questa è, ripeto, tutto va ancora a collegarsi, sarò ripetitivo, ma è la parte che più mi interessa di questa settimana. Mi ricollego alla prima domanda, il fatto della mentalità che si associa anche alla questione Calise. L'anno scorso, quando andavamo in trasferta con i nostri storici dirigenti del Forio, con Bruno, i vari che sono qui da decenni, anzi da millenni, chiamiamolo così, dicevano sempre quello, diceva il Forio, da che mi ricordo, diceva Bruno, il Forio non ha mai vinto tutte queste partite fuori casa, diceva Bruno. Ed era una cosa ovviamente che mi orgoglisce, però questa cosa dobbiamo portarla qua. Noi dobbiamo capire, spero di cancellare quello che era questo aspetto dell'anno scorso, già da domenica adesso, capire qual era la motivazione che ci portava a questo blackout, casalingo e spero che già, ripeto, già domenica possiamo, perché dobbiamo, fare in modo che questo non avvenga più. Ripeto, i ragazzi devono dimostrare che non esiste fuori casa, non esiste in casa e non esiste qualsiasi squadra, qualsiasi nome con cui lo affrontano la gara, devono dare tutto e devono avere la voglia di vincere in ogni gara, con chiunque questo sì e dovunque questo sì. Toni di Costanzo credo che sia quasi pronto, diciamo così, dopo il suo percorso di preparazione fisica solitaria, tra virgolette, quindi è una soluzione da dare in considerazione. Stiamo valutando anche Pietro che è uscito domenica scorsa a fine primo tempo, quindi stiamo un attimino valutando le sue condizioni. Simone ed Alessandro è ritornato in gruppo in settimana, per il resto siamo tutti operativi, qualche under, vabbè ancora Castagna che è squalificato, però qualche under, qualche problemino di stanchezza che dovrà essere colmato dalla giovane età e dalla voglia di mettersi in mostra. Guarda, sicuramente è una squadra, noi abbiamo visto qualche gara, sicuramente è una squadra molto versatile, è una squadra che in ogni partita ha cambiato un po' di uomini, un po' di modo di giocare, quindi anche come sistemi di gioco, quindi almeno in questa settimana, ancora oggi, andremo a fare qualcosina ancora, in modo da trovarci pronti in qualsiasi siano le loro modifiche. È una squadra che ovviamente venendo dalla D sta cercando di ricostruire quello che è il proprio futuro, quello che è il proprio essere una società gloriosa che ha fatto tanto nel calcio campano, quindi anche venendo, ripeto, dalla D dopo la retrocessione. Viene da due sconfitte, se non erro, quindi mi aspetto che loro domenica vengano qui appunto per cercare di invertire questo trend, perché è vero, siamo all'inizio, però poi per tutti quanti vincere fa sempre bene. Ecco, Misserio, proprio il fatto che avvenga da due sconfitte consecutive può essere un ragionamento che potrebbe ingannare la sua squadra, il fatto che una squadra avversaria non ha ancora trovato una vittoria, viene da una sconfitta contro il Rione Terra. Si può pensare di sottovalutare con la forza della squadra avversaria? Ti ripeto, è proprio quello che sto marcando dall'inizio, dall'inizio della conferenza stampa. Il fatto che proprio questo dobbiamo assolutamente evitare qualsiasi calo di tensione, qualsiasi calo di pensiero che possa essere, diciamo, annebbiato dai risultati dell'avversario. È un girone dove tutte le squadre possono oggi vincere contro chiunque e perdere contro chiunque, quindi soprattutto adesso all'inizio dove non c'è un essere delineati delle forze di tutte quante le squadre, quindi dobbiamo, mi aspetto soprattutto dai ragazzi, questa maturazione, questa voglia di cambiamento, anzi no, di continuazione, di mentalità, di coraggio e farlo, mettere subito le cose in chiaro già dal primo minuto contro la Versa domenica. Diciamo che questa mentalità nel tentativo subito di marcare, di cambiare la partita potrà essere aiutato anche dal pubblico. Abbiamo visto già in queste prime due partite casalinghe la concretezza di un'ottima campagna di abbonamenti fatta da voi in questa estate, un Salvatore Calisse così caldo, così pieno che in queste prime due partite casalinghe vi ha dato un grandissimo supporto. Ma guarda, è inevitabile, nel senso che ogni squadra ha bisogno della gente che li incita, che la gente che li supporti, perché anche quando le partite magari viaggiano in una certa maniera magari è negativa, è importante che anche durante la gara vengano invogliati, vengano sostenuti i ragazzi. Poi a fine partita c'è tutto, il tifoso è libero ovviamente di criticare, di applaudire in maniera tranquilla. Però a noi, hai fatto una domanda, un'affermazione giustissima, il fatto che lo percepiamo proprio. Domenica scorsa con la Fragolesi in casa l'abbiamo percepito questa grande voglia loro e questa vicinanza, ma soprattutto anche domenica. Domenica a Casoria, seppur non tantissimi, ovviamente vista l'ora, vista la distanza, avevamo tifosi al seguito e non dico stupidaggini quando dico che abbiamo ricevuto tantissimi messaggi da tante persone, poi ce li siamo girati sul nostro gruppo interno della squadra. e questo ci ha secondo me anche aiutato Domenica. Quindi è importante che loro ci siano sempre e che lo facciano nella maniera più pulita del mondo. Quindi li ringraziamo perché è la cosa principale da fare quando anche in questi momenti e queste temperature di Domenica scorse erano al campo. Quindi si nota questa grande passione, questa grande voglia di rivalsa da parte di tutti. Sicuramente il primo è quello là che ti ho detto all'inizio, anche già rispetto alla Fragolesi, quello di avere un coraggio di alzare un pochino quei metri da dietro. Quindi questa è una cosa principale che non è immediata e che non è facile farla in tutte le gare. Poi in base alle partite, in base all'avversario come si schiera cambiano le cose. Quello che sicuramente dobbiamo continuare a fare è andare forte ancora sul nostro modello di gioco, fare in modo che chi ci guarda, che magari non sa che squadra sta guardando, debba capire dopo un po' di partite che è sempre il Forio che gioca. E in ultimo ovviamente, ripeto, non di importanza, ma anzi probabilmente vado avanti a tutto, il fatto della grande mentalità, del fatto di azzerare il contachilometri ogni partita, del fatto di essere positivi, coraggiosi e assolutamente senza, diciamo così, farsi, come diciamo prima, farsi annebbiare la mente dai risultati precedenti degli avversari. Quindi questo è il primo punto, c'è la parte mentale che voglio che loro applicano in ogni momento della gara. Come forse tutti, non tutti, ma tanti addetti ai lavori, tanta carta stampata, forse avevano dimenticato magari delle sette, hanno dimenticato l'Ercolanese. Ha fatto tutto e di più, oltre a cambiare, anzi, a implementare la rosa di sei, sette giocatori importanti, quindi forse diventano otte le sorelle. Ma poi, ripeto, ognuna di loro, soprattutto poi in terraferma, c'è un mercato di calciatori anche al momento che sono liberi, sono svincolati, quindi possono accasarsi in qualsiasi momento. Sono giocatori anche importanti che sono fermi in attesa di quella giusta telefonata secondo le loro idee. E lì è tutto diverso, in terraferma si possono costruire e distruggere squadre in una serata, in una ottata, quindi bisogna essere noi più forti di questa cosa e costruire quello che è il nostro zoccolo per portare avanti il nostro campionato.